Forse dopo la partita di domenica non ci credevano in tanti, voi invece sì? Ma noi sì, anche perché questa è una partita a prescindere da partite precedenti o successive, è una partita da vincere assolutamente, perché volevamo esserci a Roma e ci andremo, quindi siamo contentissimi. Avete fatto una cosa difficile, perché stasera non era facile uscirne. Sì, comunque sarebbe stata difficile anche con tutti, perché loro hanno dimostrato di essere una grande squadra, però siamo una grande squadra anche noi, completa, e sono molto contento per i ragazzi che comunque hanno giocato meno all'inizio e si sono meritati questa vittoria. Anche Verona ha provato di tutto, due volte siete andati in vantaggio, due volte venivano rimantato, ma non avete perso la lucidità? Sì, sì, è una partita punto a punto, lo sapevamo, l'eccezione è che sono stati un po' il primo e il quarto set, che sono stati un po' squilibrati, ma la partita era da giocare fino alla fine, ce lo siamo detti prima di entrare, di non mollare mai, perché ci dovevamo credere sempre e alla fine l'abbiamo attaccato. L'effetto mondiale ti fa bene? Ma sì, diciamo che è difficile che faccia male, quindi continuiamo su questo entusiasmo.